Si fa presto a dire doping. In queste ultime settimane c'è stato un caso clamoroso che in Italia è passato quasi sotto silenzio e che merita di essere compreso meglio. Al centro di una vicenda che ha del grottesco e anche del poco pulito è Rodrigo Souto, centrocampista brasiliano del Santos che dopo un match di Copa Libertadores contro il San José, giocato a Oruro in Bolivia, viene trovato positivo al controllo antidoping. Cocaina, si legge nel referto definitivo, in base al quale viene richiesta una squalifica di due anni. Ma c'è qualcosa di strano. Il referto viene inviato al Santos solo via fax e il regolamento dice che deve essere spedito per posta e che solo dopo che il club lo ha ricevuto si può procedere alla sospensione del giocatore in attesa dell'eventuale squalifica. Dunque il Santos, convinto della buona fede del giocatore, effettua privatamente contro analisi specialistiche e non sospende il giocatore. La squalifica dunque arriva, ma in ritardo e come previste di due anni. A Rodrigo Souto non resta altro che battersi, si chiude in un silenzio stampo ostinato e parla solo con avvocati e giudici. Bisogna aspettare un mese prima che la Comebol esamini il ricorso e lo rigetta. Souto si rivolge direttamente alla FIFA. Le sue analisi, effettuate da diversi laboratori non solo brasiliani, anche in Svizzera, in Svezia e in Germania dicono tutti la stessa cosa, niente doping e soprattutto mai usato cocaina. Dati incontrovertibili che la FIFA impugna d'ufficio sconfessando la Comebol e annullando la squalifica. Ma nel frattempo la vita di Souto rischiava di uscire distrutta. I giornali mi hanno letteralmente fatto a pezzi, dice il giocatore. Scrivevano che ero drogato perché mi stavo separando da mia moglie e visto che nessuno chiedeva la mia versione dei fatti ho deciso di stare zitto e di parlare solo quando si sarebbe risolto tutto. Souto, 25 anni, non si è mai drogato, non si è mai dopato e non si sta nemmeno separando da sua moglie. Però ha subito un'ingiustizia per la quale forse non pagherà nessuno. Una carriera interrotta nel suo momento migliore per quello che ha tutta l'area di essere un complotto anche riuscito male. Ironia della sorte, in Brasile un uomo accusato d'omicidio ingiustamente è stato scarcerato con tante scuse dopo sette anni di galera e la sua notizia sui giornali era a fianco di quella della riabilitazione di Souto. C'è sempre chi sta peggio di te, filosofeggia il giocatore, ora che è tornato in campo dopo due mesi e mezzo di assenza. Ma evidentemente anche nella complessa macchina del doping c'è qualcosa di poco chiaro e che fa capire che anche chi controlla potrebbe barare.